Se sto facendo questo breve video ragazzi è solo per tenervi aggiornati sulla nuova strategia che porterò in questo canale di youtube una strategia che praticamente nessuno vi ha mai detto e che nessuno ha mai visto strategia per guadagnare soldi con questa applicazione qua chiamata Vipon qua come vedete ragazzi adesso ve la faccio vedere un po' più in grande attualmente sto guadagnando 4265 punti qua nella sinistra andandoci a premere sopra che sono poi 42 dollari e 65 centesimi tutto con questa applicazione qua grazie al link di affiliazione non vi preoccupate ragazzi perché non dovrete neanche lavorare troppo ok è per questo che esiste poi questo canale di youtube per trovare delle alternative e si possono poi prelevare questi soldi una volta che li hai fatti su Paypal quindi ragazzi se volete rimanere aggiornati iscrivetevi a questo canale di youtube attivate le notifiche ok questa è una nuova strategia per guadagnare almeno 90 euro al mese con questa applicazione qua chiamata Vipon quindi ragazzi vi aspetto iscrivetevi al canale attivate la campanellina scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate se siete curiosi di vedere nei prossimi video questa strategia guardate ragazzi queste strategie sono veramente semplici e non saremo lì praticamente a parlare solamente a farvi vedere qualche immagine no sarò proprio lì a farvi vedere come funziona questo video tutorial su come guadagnare almeno 90 euro al mese quindi sono più o meno 3 euro al giorno ok può sembrare poco ma non è poco ragazzi perché se andiamo poi a guadagnare a prelevare questi 90 euro ogni mese pensate cosa ci possiamo fare con 90 euro al mese io praticamente che cosa faccio mi vado a pagare tutti i servizi streaming che ho per guardare serie tv film documentari come per esempio netflix che ha un costo di 11 euro come per esempio amazon prime vi potete pagare la prime per un anno ragazzi costa sui 35 euro praticamente avrete prime video avrete praticamente spedizioni gratis illimitate e super veloci con amazon e ultimamente ho pagato 6 euro e 90 centesimi anche disney plus quindi guardate qua cosa potete fare con 90 euro al mese potete pagarvi i vostri servizi di streaming preferiti questo era solo per farvi un esempio ovviamente quindi poi coi soldi ci potete fare tutto quello che volete quindi ragazzi vi aspetto nel prossimo video iscrivetevi attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto per vedere come guadagnare con una sola applicazione chiamata vipon 90 euro al mese iscrivetevi al canale 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 iscrivetevi al canale